Ciao a tutti ragazzi, per questo nuovissimo video Oggi siamo qua a un costolante Ed è gigantesco Si sono già stato qua un bel po' di volte Per i primi annetti Sono stato qua Intanto ci sono Le persone Questi video li sono stati Con il telefono Quindi non è che sia un po' comodissima Non lo sai ma tipo di quella Tutta quella comodità Se è col telefono ma Vabbè Scusate Scusa Un tombino Un tombino Non lo vedete ma c'è un tombino Non lo vedete ma c'è un tombino Qua c'è una panchina Dove ci possiamo chiedere? Ok ragazzi Ok Vedete Vi giuro Ve lo riporterò Giù Giuro Ve li porterò Ve li porterò Ciao 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 Ciao